Ciao a tutti e benvenuti sul canale siamo qui oggi per un video tutorial per inserire le immagini dei nostri volanti in questo caso sia usb sia wireless e nel caso del wireless c'è la possibilità a secondo di quale volante montate di andare a visualizzare direttamente l'immagine del vostro volante questa è una caratteristica già presente all'interno del software TrueDrive quando magari si montano volanti per esempio il tanco o per esempio il volante Asher anche se per quanto riguarda i volanti Asher c'è ancora presente solo l'immagine della versione punto 1 ma questo è solo il cappello per farvi capire di che cosa andremo a parlare quindi banda alle ciance sigla ciao ragazzi come vi ho detto nell'antefatto siamo qui oggi per un tutorial per spiegare come inserire le immagini dei nostri amati volanti all'interno di TrueDrive sia per quanto riguarda i volanti usb sia per quanto riguarda i volanti wireless in realtà per quanto riguarda i volanti usb la possibilità che c'è all'interno di TrueDrive è soltanto quella di cambiare l'immagine base che cosa significa che una volta cambiata quell'immagine a prescindere quale volante usb voi andrete a montare l'immagine che vi verrà mostrata sarà sempre quella che avrete scelto e quindi ogni volta se vorrete un'immagine diversa dovrete andarla a modificare per quanto riguarda invece i volanti wireless la cosa molto bella è che a secondo del volante che utilizzerete e accenderete e collegherete al vostro TrueDrive verrà visualizzata l'immagine del vostro volante in realtà all'interno di TrueDrive già sono presenti alcune immagini di volanti wireless ve li voglio subito mostrare all'interno della cartella programmi SynQ2 TrueDrive e all'interno della cartella wheel come vedete ci sono già dei volanti come i volanti Asher, il volante di Sim Racing Bay, il che viene visualizzata sempre voglio iniziare quindi subito a spiegarvi come andare a modificare l'immagine dei volanti usb per prima cosa dovrete creare un'immagine 400 x 400 pixel senza sfondo in formato png e cercare il più possibile di far quadrare il centro del volante con il centro dell'immagine in questo caso ragazzi io ho creato per esempio questa immagine con photoshop ricreando quindi un'immagine il mio volante simline mclaren 720s per far visualizzare all'interno di TrueDrive questa immagine nel caso fosse la versione usb molto semplicemente dobbiamo andare nella nostra cartella documenti Syncube 2 apriamo la cartella wheel che al momento è vuota e inseriamo l'immagine che abbiamo creato del nostro volante in questo modo e la dobbiamo rinominare come vedete qui wheel image e a questo punto ragazzi il gioco è fatto vi basterà aprire il programma TrueDrive e vi troverete già inserita l'immagine del vostro volante naturalmente come vi ho spiegato per quanto riguarda i volanti usb il problema è che anche se monterete un secondo volante diverso purtroppo visualizzerà sempre l'immagine che avrete scelto e rinominato image wheel ma arriviamo alla parte succulenta di questo tutorial andiamo a collegare il volante simline e io lo accendo vedete l'accoppiamento è istantaneo e vi invito anche a vedere vediamo ritorniamo dell'immagine precedente la quantità di segnale che offre il Syncube 2 con i suoi volanti wireless in questo caso il mio è un Syncube Pro R1 cioè le prime versioni quelle che non hanno l'antenna ma come vedete la quantità di segnale è perennemente al 100% oscilla tra il 90 e il 100% quindi il fatto di avere o non avere l'antenna in questo caso non dà nessun tipo di problema ma come avete ben notato una volta acceso l'immagine visualizzata è sempre quella base come bisogna fare per far apparire l'immagine del nostro volante ritorniamo alla schermata wireless in questo caso come vedete vi apparirà il nome del volante in questo caso 720S quindi molto semplicemente che cosa dovete fare all'immagine che avete creato gli darete il nome 720S chiudiamo adesso il programma l'andrete a copiare sempre all'interno della cartella documenti Syncube 2 will la copiamo qui all'interno a questo punto possiamo chiudere tutto riapriamo adesso l'applicazione true drive come vedete visualizza l'immagine base adesso basterà accendere il nostro volante una volta connesso è apparsa l'immagine del nostro volante e questo quindi a secondo del volante wireless che voi avrete e avrete inserito l'immagine all'interno della cartella vi apparirà l'immagine del vostro volante naturalmente metterò il link in descrizione per poter riscaricare l'immagine che ho creato per il simline 720S ragazzi spero che questa rubrica di tutorial per true drive vi stia piacendo vi ricordo sempre mettete un bel like al video è il miglior modo per supportarmi andatemi a cercare su facebook mdss in parts mettete un like anche lì e ragazzi che dirvi ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao